Quarta edizione del premio Cambiamenti, oggi la presentazione in CNA Pescara, quali le novità? CNA Abruzzo parteciperà al premio Cambiamenti che è un contest, una gara nazionale tra le migliori start-up nazionali che si candideranno. La migliore start-up del 2018 è stata una start-up abruzzese con sede legale sotto l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso e sede operativa a un laboratorio a rapino su un progetto di ceramica particolare, quindi mettendo insieme tradizione e ricerca. L'obiettivo di quest'anno è di fare delle animazioni territoriali, quindi la CNA sarà presente su tutti i territori, Terra, Molacola, Pescara, Chieti e anche Avezzano con delle tappe fondamentali di animazione che si concluderanno nella torre binaria Rocca San Giovanni con un evento che metterà insieme anche un'attività di laboratorio di design thinking con delle imprese che si raggiungeranno sul ruolo delle nuove imprese e delle start-up. Si può vincere 20.000 euro di dotazione economica più la possibilità di partecipare a dei corsi gratuiti di formazione con player molto importanti e anche due anni di noleggio a lungo termine di auto, quindi questi sono un po' messi i premi in campo. In più CNA Abruzzo metterà in campo premi di servizio, quindi voucher di servizio a disposizione per i primi classificati. Come arriveremo a selezionare le imprese? Faremo delle tappe di animazione, in seguito coinvolgeremo sia l'università che una commissione tecnica per selezionare le migliori start-up. Le prime tre le candideremo al premio nazionale, quindi saranno le tappe intermedie.